Oggi vi parlo di cartelli informativi. Questi sono i cartelli che sono appena stati installati per le vie di Chiavari relativamente ai punti di interesse della nostra città. Purtroppo non possono notare che si è persa un'opportunità. Una città che vuole essere all'avanguardia per quanto riguarda i diritti e l'inclusività purtroppo non ha predisposto i cartelli per le persone con limitate capacità visive e quindi di fatto non potranno avere le informazioni che possono avere tutti gli altri. Inoltre, nonostante sia stati ricavati e realizzati col foglio di rimposto di soggiorno non mi risulta che siano state coinvolte le associazioni di categorie per magari ascoltare anche il loro parere relativamente ai testi, al formato insomma, ascoltare chi fa turismo. Quindi forse due occasioni perse, una sicuramente e l'altra magari si poteva coinvolgere di più tutto quello che è il tessuto relativo al turismo chiavarese. In definitiva credo che sia stata una buona idea ma come sempre non sono state coinvolte le associazioni di categoria che potrebbero rendere un'idea buona, un'idea ottima. Continuate a seguirmi, ciao! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS